la sera prima che il giovane Larsen partisse per l'Egitto per assumere il suo nuovo incarico andò da un chiaroveggente ci credeva e non ci credeva non provava alcun interesse particolare perché conosceva già il suo passato e non gli interessava conoscere il futuro giusto per farmi piacere Jim, insistì la ragazza è davvero straordinaria non erano passati neanche 5 minuti da che ero con lei che mi diceva le iniziali del tuo nome così deve possedere un qualche potere ti legge nel pensiero? le disse lui sorridendo con indulgenza so farlo anch'io ma la ragazza parlava sul serio e lui si arrese quella sera andò alla sua cena di addio e le fece il resoconto del suo incontro con la chiaroveggente il risultato fu scarso e poco convincente mi stava per arrivare del denaro avrebbe fatto presto un viaggio e non si sarebbe mai sposato vedi quante sciocchezze le disse sorridendo perché si sarebbero sposati alla sua prima promozione comunque le fornì tutti i dettagli facendole un piccolo riassunto della fazzenda nel modo che a lei piaceva ma questo è tutto Jim richiese la ragazza fissandolo in volto non mi stai nascondendo qualcosa e gli esitò un istante e quindi continuò scoppiando a ridere ci sarebbe qualcos'altro confessò ma tu prendi tutto così sul serio io doveva dirglielo naturalmente la donna gli aveva raccontato un sacco di sciocchezze circa gli elementi propizi e no dice che l'acqua non mi ha propizia che devo stare molto attento all'acqua altrimenti mi dannezzerà devo guardarmi solo dall'acqua dolce si affrettò ad aggiungere rendendosi conto che la ragazza stava pensando al suo viaggio in nave e a un possibile naufragio annegamento gli chiese a bruciapelo sì ammise Larsen con riluttanza ma continuando a sorridere dice proprio annegamento ma non nel solito modo la ragazza si agitò a disagio ma cosa significa non nel solito modo trattenne il respiro per un attimo ma questo non poteva dirglielo perché lui stesso non lo sapeva gli riferì pertanto le esatte parole della donna annegherai ma non saprai di annegare era stato poco saggio da parte sua in seguito desiderò non averle riferito quel particolare essendo lei impressionabile e credendo a simili cose in ogni modo sarò al sicuro in Egitto sarò fortunato se nel deserto troverò tanta acqua da farmi male per tutto il tragitto da Trieste ad Alessandria ricordò la promessa che la ragazza gli aveva estorto che non sarebbe mai andato sul Nilo a meno che non glielo imponesse il lavoro mantenne la promessa da quell'anima fedele e priva di immaginazione che era affrontando di buon grado gli occasionali sacrifici che l'amore gli imponeva a parte il Nilo praticamente in Egitto non c'era altra acqua dolce e in ogni modo la ditta per cui lavorava che si occupava dell'estrazione del natron ovvero del carbonato di sodio aveva i suoi uffici a qualche distanza dal fiume in pieno deserto il Nilo con le sue verdi e fresche rive non era neanche visibile i mesi passarono in fretta e si avvicinava il tempo di far ritorno in patria nel lungo intervallo la fortuna aveva giocato buone carte per lui si erano liberati alcuni posti una promozione sembrava imminente e le lettere di Larsen erano piene di progetti circa l'andare a vivere con la ragazza in una casa di loro proprietà la sua salute tuttavia non migliorò il clima secco non faceva per lui anche in quel breve lasso di tempo aveva continuato a dimagrire il suo sangue non ne aveva tratto trovamento il suo sistema nervoso ne aveva risentito nel dispetto delle previsioni del suo medico l'aria secca non aveva favorito il sonno un clima umido sarebbe stato molto più indicato per la sua salute ma le sue lettere non accennavano a tutto questo ne parlava della sua vita del lavoro dello sport della gente simpatica che aveva conosciuto delle sue chance di avere un aumento di paga e dunque del matrimonio che si profilava all'orizzonte e una settimana prima di partire andò a dispezionare gli ultimi scavi che la sua compagnia stava effettuando a una ventina di miglia nel deserto oltre al ciobacchie in prossimità delle colline di calcare di Gebel Haidi e ci andò da solo portandosi il tè e la colazione perché quel giorno era venerdì e gli uomini non lavoravano era a cavallo l'incidente fu abbastanza comune sulla via del ritorno nella calura del primo pomeriggio il suo cavallo inciampò in un macigno sepolto nell'infida pista del deserto e lo scagliò a terra ruppe il sottopancia della sella e scappò via prima che lui potesse riafferrare le briglie lasciandola a piedi a una dozzina di miglia da casa gli faceva molto male un ginocchio e camminava con difficoltà sentivo un ronzio in testa che gli rendeva difficile vederci bene e cosa ancora più grave la scorsa d'acqua e di cibo assicurata alla sella era scomparsa con il cavallo in quelle sconfinate distese di sabbia era solo nel deserto sotto l'implacabile sole meridiano a 12 miglia di estenuante cammino dalla salvezza in condizioni normali avrebbe coperto quella distanza in 4 ore giungendo a casa sul far della sera ma il ginocchio gli doleva molto e il massimo che avrebbe potuto fare era un miglio all'ora riflettè per qualche minuto la cosa più saggia da fare era sedersi e aspettare finché vedendo tornare il cavallo solo sarebbero venuti a cercarlo così fece perché il calore bruciante e il riverbero azzecante erano pericolosi erano terribili era ancora scosso e sturdito dalla caduta affamato e debole e trascinarsi penosamente per ore sulla pista indurita e cotta dal sole lo avrebbe portato a una prostrazione e a uno sfinimento completi perciò si sedette massaggiandosi il ginocchio dolorante era una piccola avventura quella che gli era appena capitata e sebbene sapesse che il deserto non andava preso sotto gamba al momento le avvertì come tale pregustando la descrizione che ne avrebbe data nella prossima lettera o pensiero inebriante a viva voce tra qualche settimana la vampa del sole cominciò a causargli una lieve sonnolenza era esausto si sentì preda di un dolce torpore cui non oppose resistenza addormentandosi fu un lungo sonno senza sogni e quando finalmente si svegliò il sole era appena tramontato e l'oscurità scendeva terribile sullo smisurato deserto l'aria andava facendoci più fredda ed era stato proprio il freddo a svegliarlo in breve l'ultimo bagliore rosso scomparve all'orizzonte e cominciarono a brillare le prime stelle era buio ormai il cielo era color viola scuro si guardò intorno rendendoci conto che aveva perduto completamente il senso dell'orientamento aveva molta fame il freddo si fece più pungente essendosi alzato il vento ma gli parve che il dolore al ginocchio fosse diminuito così si alzò e camminò per un breve tratto e dopo pochi passi perse di vista il posto dove era stato sbalzato di sella e aveva dormito per ore il deserto notturno lo aveva già ingoiato ah disse francese questo non è un campo né la brughiera inglese solo nel deserto la cosa migliore da fare era restare esattamente dove si trovava soltanto così l'avrebbero ritrovato se avesse continuato a camminare si sarebbe perduto del tutto ma era strano che non fosse ancora venuto nessuno a cercarlo per stare caldo d'altra parte era costretto a muoversi così fece un monticello di pietre per marcare il posto e cominciò a girare di attorno il diametro del cerchio che compiva era di una dozzina di metri camminava zoppicando malamente mentre la fame lo tormentava ma dopo tutto non era poi un'avventura tanto terribile lo colpì il lato buffo della sua situazione sebbene di corporatura fragile non aveva uno spirito eccessivamente timido fantasioso avrebbe potuto resistere per tutta la notte o al peggio per tutto il giorno seguente ma quando guardò il piccolo mucchio di pietre si accorse che ce n'erano a dozzine a centinaia a migliaia tutte uguali la superficie del deserto ne era cosparsa dopo cinque minuti non riuscì più a riconoscere quello che aveva ammucchiato lui così si sedette di nuovo ma feddo pungente il vento di cui avvertiva la gelida carezza sotto gli abiti leggeri lo costrissero ben presto a ricominciare a camminare era una notte spaventosa senza neanche un buco dove rifugiarsi anche il luccichio delle stelle dello zodiaco che avevano brillato per ore nel cielo occidentale era scomparso non avrebbe potuto orientarsi con le stelle né con nessun altro mezzo nell'oscurità del deserto sempre uguale il vento soffiava e gemeva fra le dune sabbiose il vasto deserto si stendeva per ogni dove sul mondo udì in grido pauroso degli sciacalli e allora si rese conto improvvisamente che la sua non era affatto un'avventura divertente e messo alle strette fu costretto a fronteggiare la squallida e buia realtà che lo circondava si era perduto quel pensiero lo raggelò devo stare calmo e pensare disse a voce alta la sua voce non svegliò alcuna eco era ben piccola cosa nell'immensità del deserto e fu subito inghiottita da qualcosa di gigantesco si rialzò e ricominciò a camminare perché non veniva nessuno erano passate molte ore il cavallo doveva aver fatto ritorno alla stalla da un pezzo oppure aveva corso follemente in un'altra direzione esaminò diverse ipotesi aveva sempre più freddo e il caldo di alcune ore prima sembrava un sogno non avvezzo alle privazioni e alle avversità non sapeva cosa fare ma si tolse giacca e camicia frizzonandosi vigorosamente la pelle agitando le braccia come un vetturino di Londra quindi si rivestì in fretta sebbene il vento gli soffiasse sulle spalle nude sentì un po' di calore esausto si lasciò cadere a terra al riparo di un macigno di calcare appisolandosi di quando in quando mentre il vento gli soffiava in faccia la sabbia aveva in continuazione davanti agli occhi un viso e dei cari lineamenti le mani morbide lo accarezzavano e nell'aria sentiva un certo profumo era abbastanza naturale perché nella sua ben misera situazione il pensiero era corso all'Inghilterra e alla donna amata l'Inghilterra dove c'era soffice erba fresca grandi alberi sia piombrosi di agrifoglio mentre il duro e nero deserto lo imprigionava e la sua coscienza a intervalli dileguava sotto quell'impietoso e arido cielo d'Egitto fu verso le cinque del mattino che ho di una voce sobbalzando e quella voce apparteneva alla chiarovezzente le frasi si persero nell'oscurità ma una parola rimase acqua la prima si meravigliò ma poi trovò una spiegazione causa ed effetto erano ovvi era a causa del suo corpo che aveva bisogno di acqua da ciò quell'allucinazione aveva sete fu allora che per la prima volta ebbe davvero paura era certo che avrebbe potuto sopportare la fame ancora per un giorno o due ma la sete sete e deserto costituivano una coppiata maligna che per suggestioni risalenti ancora all'infanzia provocava il terrore una volta che il pensiero aveva messo radici nella mente non era più possibile cacciarlo a dispetto dei suoi sforzi quel pensiero crebbe smisuratamente e la sete con esso aveva fumato molto e fatto colazione il giorno prima con cibi conditi con spezie piccanti aveva respirato l'aria secca ardente del terreno alcalino cercò una pietruzza fredda di silice da mettersi nella bocca infuocata non c'erano ciottoli lì ma soltanto macigni di calcare il freddo lo aiutava a sopportare la sete ma temeva già nel suo subconscio quello che sarebbe successo di che si trattava cercò di scacciare quel pensiero l'assoluta futilità delle sue deboli forze contro quelle dell'universo lo annichilì e poi seppe era il sole di cui temeva la venuta l'implacabile sole nel suo eterno cammino stava già per sorgere il suo ritorno era come il presagio di un'esecuzione e venne con autentico orrore scrutò la meravigliosa alba sul mare di sabbia il cielo occidentale s'accesse di improvvisi fuochi cremisi creste e dilupi invisibili alla luce delle stelle si stagliarono neri contro l'orizzonte assieme alle dune simili a cavalloni gelati in un mare di ghiaccio poi si disegnarono lunghe striature gialle e blu mentre il cielo copriva di grandi drappi color malva le alture corrose dal vento non si mossero attesero che il sole fosse alto e allora si spostarono disegnate nitidamente dalla luce in cui sembravano fluttuare zettando lunghe ombre ma entro un'ora non ci sarebbe stata più ombra i piccoli mucchi di pietre cominciarono a danzare era orribile e tutto intorno aveva la sconfinata distesa di sabbia che nelle prossime dodici ore si sarebbe trasformata in un inferno di già il mostruoso deserto avvampava di luce abbagliante uniforme ed uguale ogni angolo di esso uguale al precedente e al successivo a destra come a sinistra e si faceva beffe di direzione e senso dell'orientamento si alzò e riprese a camminare camminò per miglia sebbene non sapesse se era diretto a nord a sud a est o ad ovest la frenetica follia del deserto si stava impadronendo di lui e si trascinava stancamente passo dopo passo per l'arida sconfinata distesa del deserto assassino gli sembrava quasi una cosa viva gli avvertiva il cieco desiderio di si durlo allo stremo senza acqua sentiva sebbene sapesse che era un effetto del delirio che la sua piccola insignificante vita non era altro che un punto nella sua immensa superficie un mucchietto di pietra e null'altro le sue emozioni le sue paure le sue speranze le sue ambizioni il suo amore non erano nient'altro che ciottoli danzanti nell'abbaglio solare allora fece un coraggioso sforzo di volontà una notte e un giorno sorrise e le labbra gli si screpolarono dolorosamente sotto la tensione della pelle cosa saranno mai molti hanno resistito per giorni e giorni già solo che non faceva parte di quella eletta schiera era un uomo qualunque non avvezzo alle privazioni alla fatica alla dura resistenza e il suo spirito non era temprato non sapeva risparmiare le proprie energie e il deserto giocava con lui come il gatto con il topo aveva la lingua gonfia e con la riarsa non gli permetteva di deglutire si lasciò cadere sulla sabbia gli tacque per un'ora ed ebbe buon senso di trascinarsi sulla sommità di un tumulo dove avrebbero potuto vederlo con più facilità e rimase due tre quattro ore e il calore era tale che gli sembrava di essere in una fornace il cielo quando apriva gli occhi era vuoto poi intravide un puntolino nella distesa azzurra e subito dopo un altro chissà da dove venivano fluttuavano altissimi quasi invisibili apparivano scomparivano riapparivano volavano librandosi in ampi cerchi lontani ma sempre più vicini li avvoltoi aveva atteso l'orecchio per tanto tempo attento a ogni minimo suono di passi o di voci che gli sembrò di non riuscire più ad udire nulla del tutto non ci sentiva più poi cominciarono i sogni d'acqua con la loro estenuante tortura sentiva che sentiva scorrere l'acqua in limpidi ruccelli attraverso i verdi prati inglesi gorgogliava con un suono argentino lo udiva benissimo rimmerse mani piedi la testa rimmerse in chiare polle gorgoglianti e beve beveva con la pelle e non solo con la bocca e con la gola deliziosa il ghiaccio tintinnava contro il vetro di un bicchiere d'acqua si tuffò e nuotò nella fresca polla l'acqua gli scorreva sulla schiena e sulle spalle litri e litri un flusso d'acqua fresca limpida cristallina vitale poi si rizzò in piedi ai margini di un bosco mentre un acquazzone estivo si rovesciava su di lui bagnandogli i capelli e la faccia e ne sentiva lo scroscio su milioni di foglie assedate i tronchi umidi luccicavano il muschio bagnato esalava il suo profumo e felci ondeggiavano nell'atmosfera umida di pioggia ne era inzuppato fino alle ossa un torrente di montagna freschissimo per l'acqua del ghiacciaio si frangeva contro i massi e la schiuma gli spruzzava le guance e i capelli vituffò la testa ah dentro fino al collo e lei gli era vicino erano insieme sott'acqua socchiudendo gli occhi vide i suoi attraverso il flusso copioso del liquido vitale la voce però non era la sua annegherai ma non saprai di annegare la sua lingua gonfia articolò un nome ma dalla gola riarsa non uscì alcun suono chiuse gli occhi dolcemente sprofondò nell'oblio qualche istante più tardi udì un suono era una voce più voci che il tonfo di zoccoli d'animali sulla sabbia gli avvoltòi svanirono dal cielo altrettanto misteriosamente di come erano apparsi e quasi in risposta al suono egli fece un movimento ma automatico inconscio non sapeva di muoversi e il corpo non più controllato dalla mente conscia perse il suo precario equilibrio rotolò sulla sabbia ma non sapeva di rotolare lentamente oltre il bordo del tumulo dove stava scivolando si volse su un fianco poi sull'altro e continuò a rotolare su se stesso senza che nulla lo fermasse fino al fondo c'era una polla d'acqua ma egli non la vide e non sapeva che ci fosse lo trovarono in una pozza d'acqua una di quelle rare risorgive del deserto preziose per i beduini era rimasto disteso per ore era rimasto disteso per ore a non più di tre metri da essa era annegato ma senza sapere di annegare di annegare di annegare Grazie a tutti